3. La casa e la talpa Ho detto troppo presto, in principio, che ho conosciuto mio padre. Non l'ho conosciuto. Avevo quattro anni e mezzo quando egli morì. Andato con un suo trabaccolo in Corsica per certi negozi che vi faceva. Non torno più. Ucciso da una perniciosa in tre giorni a 38 anni. Lasciò tuttavia nella giatezza la moglie e i due figli. Mattia, che sarei io, e fui, e Roberto, maggiore di me di due anni. Qualche vecchio del paese si compiace ancora di dare a credere che la ricchezza di mio padre, la quale pure non gli dovrebbe più dar ombra, passata come da un pezzo in altre mani, avesse origine, diciamo così, misteriose. Vogliono che se la fosse procacciata giocando a carte a Marsiglia col capitano d'un vapore mercantile inglese, il quale, dopo aver perduto tutto il denaro che aveva seco e non doveva essere poco, si era anche giocato un grosso carico di zolfo imbarcato nella lontana Sicilia per conto di un negoziante di Liverpool. Sanno anche questo, è il nome? D'un negoziante di Liverpool che aveva noleggiato il vapore, quindi per disperazione, salpando, si era negato in alto mare. Così il vapore era approdato a Liverpool, alleggerito anche del peso del capitano. Fortuna che aveva per Zaborra la malignità dei miei compaesani. Possedevamo terre e case, sagace e avventuroso mio padre non ebbe mai per i suoi commerci stabile sede, sempre in giro con quel suo trabaccolo dove trovava meglio e più opportunamente comprava e subito rivendeva mercanzia di ogni genere. E perché non fosse tentato a imprese troppo grandi e rischiose, investiva a mano a mano i guadagni in terre e case qui, nel proprio paesello, dove presto, forse, contava di riposarsi negli agi faticosamente acquistati, contento e in pace tra la moglie e i figliuoli. Così acquistò prima la terra delle due riviere, ricca di olivi e di gelsi, poi il podere della stia, anch'esso riccamente beneficato e con una bella sorgiva d'acqua che fu presa quindi per il molino. Poi tutta la poggiata dello Sperone, che era il miglior vigneto della nostra contrada, e infine San Rocchino, ove edificò una villa deliziosa. In paese, oltre alla case in cui abitavamo, acquistò due altre case e tutto quello isolato, ora ridotto e acconciato ad arsenale. La sua morte quasi improvvisa fu la nostra rovina. Mia madre, inetta al governo dell'eredità, dovetta affidarla a uno che, per aver ricevuto tanti benefici da mio padre fino a cangiar di stato, stimo dovesse sentir l'obbligo di almeno un po' di gratitudine, la quale, oltre lo zelo e l'onestà, non gli sarebbe costata sacrifici da alcuna sorta, poiché era lautamente remunerato. Santa donna mia madre, dindoleschiva e placidissima, aveva così scarsa esperienza della vita degli uomini. A sentirla parlare pareva una bambina, parlava con accento nasale e rideva anche col naso, già che ogni volta, come si vergognasse di ridere, stringeva le labbra, gracilissima di complessione. Fu, dopo la morte di mio padre, sempre malferma in salute, ma non si lagnò mai dei suoi mali, né credo se ne infastidisse neppure con se stessa, accettandoli rassegnata come una conseguenza naturale della sua sciagura. Forse si aspettava di morire anch'essa dal cordoglio e doveva dunque ringraziare il Dio che la teneva in vita, pur così tapina e tribolata per il bene dei figliuoli. Aveva per noi una tenerezza addirittura morbosa, piena di palpiti e di sgomento. Ci voleva sempre vicini, quasi temesse di perderci e spesso mandare in giro le serve per la vasta casa appena qualcuno di noi si fosse un po' allontanato. Come una cieca si era abbandonata alla guida del marito, rimaste senza, si sentì sperduta nel mondo e non uscì più di casa, tranne le domeniche, di mattina per tempo, per andare a messa nella prossima chiesa, accompagnata dalle due vecchie serve, che la trattava come parenti. Nella stessa casa, anzi, si restrinse a vivere in tre camere soltanto, abbandonando le multe altre alle scarsi cure delle serve e alle nostre diavolerie. Spirava in quelle stanze da tutti i mobili d'antica foggia, dalle tende scolorite, quel tanfo speciale delle cose antiche, quasi il respiro d'un altro tempo. E ricordo che più di una volta io mi guardai attorno con una strana costernazione che mi veniva dalla immobilità silenziosa di quei vecchi oggetti da tant'anni lì, senza uso, senza vita. Fra coloro che più spesso venivano a visitare la mamma era una sorella di mio padre, zitellona bisbetica, con un paio d'occhi da furetto, bruna e fiera. Si chiamava scolastica, ma si tratteneva ogni volta pochissimo perché tutto un tratto discorrendo si infuriava e scappava via senza salutare nessuno. Io da ragazzo ne avevo una gran paura. La guardavo con tanto d'occhi, specialmente quando la vedevo scattare in piedi sulle furie e le sentivo gridare, rivolta a mia madre, pestando rabbiosamente un piede sul pavimento. Senti il vuoto, la talpa, la talpa, alludeva al malagna, all'amministratore che ci scavava soppiato la fossa sotto i piedi. Zia scolastica, l'ho saputo di poi, voleva a tutti i costi che mia madre riprendesse marito. Di solito le cognate non hanno di queste idee né danno questi consigli, ma ella aveva un sentimento aspro e dispettoso della giustizia. E' più per questo, certo, che per nostro amore non sapeva tollerare che quell'uomo ci rubasse così, a man salva. Ora, data l'assoluta inettitudine e la cecità di mia madre, non ci vedeva altro rimedio che un secondo marito e lo disegnava anche in persona ad un povero uomo che si chiamava Gerolamo Pomino. Costui era vedovo, con un figliuolo che vive tutt'ora e si chiama Gerolamo come il padre. Amicissimo mio, anzi più che amico, come dirò appresso. Fin da ragazzo veniva col padre in casa nostra ed era la disperazione mia e di mio fratello Berto. Il padre, da giovane, aveva aspirato lungamente alla mano di zia scolastica che non aveva voluto saperne, come non aveva voluto saperne del resto di alcun altro. E non già perché non si fosse sentita disposta ad amare, ma perché il più lontano sospetto che l'uomo da lei amato avesse potuta anche col sol pensiero tradirla le avrebbe fatto commettere, diceva, un delitto. Tutti finti per lei gli uomini, birbanti e traditori. Anche Pomino? No, ecco, Pomino no. Ma se n'era accorta troppo tardi. Di tutti gli uomini che avevano chiesto la sua mano e che poi si erano ammogliati, ella era riuscita a scoprire qualche tradimento e ne aveva ferocemente goduto. Solo di Pomino? Niente. Anzi, il pover uomo era stato un martire della moglie. E perché dunque ora non lo sposava lei? Oh, bella. Perché era vedovo. Era appartenuto a un'altra donna, alla quale forse qualche volta avrebbe potuto pensare. E poi perché? Via. Si vedeva da cento miglia lontano. Nonostante la timidezza, era innamorato. Era innamorato. Si intende di chi? Quel povero signor Pomino. Figurarsi se mia madre avrebbe mai acconsentito. Le sarebbe parso un vero e proprio sacrilegio. Ma non credeva forse neppure poverina che sia scolastica e dicesse sul serio e rideva in quel suo modo particolare alle sfuriate della cognata, all'esclamazione del povero signor Pomino che si trovava lì presente a quelle discussioni e al quale la zitellona scaraventava le lodi più sperticate. Mi immagino quante volte egli avrà esclamato dimenandosi sulla seggiola come su un arnese di tortura. Santo nome di Dio benedetto. Omino lindo, aggiustato dagli occhietti ceruli mansueti, credo che si incipriasse e avesse anche la debolezza di passarsi un po' di rossetto, appena appena un velo, sulle guance. Certo, si compiaceva di aver conservato fino alla sua età i capelli, che si pettinava con grandissima cura a farfalla e si rassettava continuamente con le mani. Io non so come sarebbero andati gli affari nostri se mia madre, non certo per sé, ma in considerazione dell'avvenire dei suoi figlioli, avesse seguito il consiglio di zia scolastica e sposato il signor Pomino. È fuor dubbio però che peggio di come andarono affidati al Malagna, la Talpa, non sarebbero potuti andare. Quando Berto e io fumo cresciuti, gran parte degli averi nostri, è vero, era andata in fumo, ma avremmo potuto almeno salvare dalle grinfie di quel ladro il resto che, se non più agiatamente, ci avrebbe certo permesso di vivere senza bisogni. Fumo due scioperati, non ci volemmo dar pensiero di nulla, seguitando da grandi a vivere come nostra madre da piccoli ci aveva abituati. Non avevo voluto nemmeno mandarci a scuola. Un tal Pinzone fu il nostro aio e precettore. Il suo vero nome era Francesco o Giovanni del Cinque, ma tutti lo chiamavano Pinzone, ed egli ci si era già tanto abituato che si chiamava Pinzone da sei. Era ad una magrezza che incuteva ribrezzo, altissimo di statura, e più alto, Dio mio, sarebbe stato, se il busto, tutto un tratto quasi stanco di tallir gracile in su, non gli fosse curvato sotto la nuca in una discreta gobetta, da cui il collo pareva uscisse penosamente, come quello di un pollo spennato, con un grosso nottolino protuberante che gli andava su e giù. Pinzone si sforzava spesso di tenere tra i denti le labbra come per mordere, castigare e nascondere un risolino tagliente che gli era proprio, ma lo sforzo, in parte era vano, perché questo risolino, non potendo per le labbra così imprigionate, gli scappava per gli occhi, più acuto e beffardo che mai. Molte cose con quegli occhietti egli doveva vedere nella nostra casa, che né la mamma né noi vedevamo. Non parlava, forse perché non stimava dover suo parlare, o perché, come io ritengo più probabile, ne godeva in segreto velenosamente. Noi facevamo di lui tutto quello che volevamo. Egli ci lasciava fare, ma poi, come se volesse stare in pace con la propria coscienza, quando meno ce lo saremmo aspettato, ci tradiva. Un giorno, per esempio, la mamma gli ordinò di condurci in chiesa. Era prossima la Pasqua e dovevamo confessarci. Dopo la confessione, una breve visitina alla moglie inferma del Malagna e subito a casa. Figurarsi che è divertimento, ma appena in strada noi due proponemmo a Pinzone una scappatella. Gli avremmo pagato un buon litro di vino, purché lui, invece che in chiesa e dal Malagna, ci avesse lasciato andare alla stia in cerca di nidi. Pinzone accettò felicissimo, stropicciandosi le mani, con gli occhi spavillanti. Beve, andamo nel podere, fece il matto con noi per circa tre ore, aiutandoci ad arrampicarci sugli alberi, arrampicandoci sì egli stesso, ma alla sera di ritorno a casa, appena la mamma gli domandò se avevamo fatto la nostra confessione e la visita al Malagna. Ecco, le dirò, rispose con la faccia più tosta del mondo, e le narrò per filo e per segno quanto avevamo fatto. Non giovavano a nulla le vendette che di questi suoi tradimenti noi ci prendevamo, eppure ricordo che non era da burla. Una sera, per esempio io e Berto, sapendo che egli soleva dormire seduto sulla cassa panca, nella saletta d'ingresso, in attesa della cena, saltammo furtivamente dal letto, in cui ci avevano messo per castigo prima dell'ora solita, riuscimmo a scovare una canna di stagno da serviziale, lunga due palmi. La riempimmo d'acqua saponata nella vaschetta del bucato, e così armati andammo cautamente a lui. Gli accostammo la canna alle narici e, zuff, lo vedemmo balzare fin sotto al soffitto. Quanto con un siffatto precettore dovessimo profittare nello studio non sarà difficile immaginare. La colpa però non era tutta di pinzone, che egli, anzi, pur di farci imparare qualche cosa, non badava a metodo né a disciplina e ricorreva a mille espedienti per fermare in qualche modo la nostra attenzione. Spesso con me, che ero di natura molto impressionabile, ci riusciva, ma egli aveva un'erudizione tutta la sua particolare, curiosa e bislaca. Era, per esempio, dottissimo in Bisticci, conosceva la poesia fidenziana e la maccaronica, la burchiellesca e le opere ambica, e citava allitterazioni e ammunizioni e versi correlativi e incatenati e retrogradi di tutti i poeti per di giorni. E non poche rime balzane componeva gli stesso. Ricordo, a San Rocchino un giorno ci fece ripetere una collina di rimpetto non so più quante volte questa sua eco. In cuor di donna quanto dura amore, ore, ed ella non mi amò quant'io la mai, mai, or chi sei tu che si ti lagni meco eco. E ci dava a sciogliere tutti gli enimmi in ottava rima di Giulio Cesare Croce e quelli insonetti del Moneti e gli altri, pure insonetti, d'un altro scioperatissimo che aveva avuto il coraggio di nascondersi sotto il nome di Caton Luticense. Li aveva trascritti con inchiostro tabaccoso in un vecchio cartolare dalle pagine ingiallite. Udite, udite quest'altro dello Stigliani. Bello. Che sarà? Udite. A un tempo stesso io mi son una e due, e fo' due ciò che era una primamente. Una mi adopra con le cinque sue, contra infiniti che in capo alla gente. Tutta son bocca dalla cinta in sue, e più mordo sdentata che con dente. Ho due bellicchi a contrapposti siti. Gli occhi ho nei piedi, e spesso agli occhi i diti. Mi pare di vederlo ancora, nell'atto di recitare, spirante delizia da tutto il volto, con gli occhi semi chiusi, facendo con le dita il chiocciolino. Mia madre era convinta che al bisogno nostro potesse bastare ciò che Pinzone ci insegnava, e credeva forse anche, nel sentirci recitare gli enimmi del croce e dello Stigliani che ne avessimo già di avanzo. Non così sia scolastica, la quale, non riuscendo ad appioppare a mia madre il suo prediletto pomino, si era messa a perseguitare Berto e me. Ma noi, forti della protezione della mamma, non le davamo retta, e lei si stizziva così fieramente che, se avesse potuto, senza farsi vedere o sentire, ci avrebbe certo picchiato fino a levarci la pelle. Ricordo che una volta, scappando via al solito sulle furie, si impattei in me per una delle stanze abbandonate, ma ferrò per il mento, me lo strinse forte, forte, con le dita dicendimo Bellino, 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 e, accostandomi, man mano, che diceva, sempre più il volto al volto, con gli occhi negli occhi, finché poi mise una specie di grugnito e mi lasciò ruggendo tra i denti. Muso di cane! Ce l'aveva specialmente con me, cheppure attendevo agli strampalati insegnamenti di Pinzone, senza confronto più di Berto, ma doveva essere la mia faccia placida e stizzosa e quei grossi occhiali rotondi che mi avevano imposto per addrizzarvi un occhio, il quale, non so perché, tendeva a guardare per conto suo altrove. Erano per me quegli occhiali un vero martirio. A un certo punto li buttai via e lasciai libero l'occhio di guardare dove gli piacesse meglio. Tanto, se dritto, quest'occhio non mi avrebbe fatto bello, ero pieno di salute e mi bastava. A 18 anni mi invase la faccia un barbone rossastro e ricciuto, a scapito del naso piuttosto piccolo che si trovò come sperduto tra esso e la fronte spaziosa e grave. Forse, se fosse in facoltà dell'uomo la scelta di un naso adatto alla propria faccia, o se noi, vedendo un pover'uomo oppresso da un naso troppo grosso per il suo viso smunto, potessimo dirgli questo naso non sta bene a me e me lo piglio. Forse, dico io, avrei cambiato il mio volentieri e così anche gli occhi e tante altre parti della mia persona, ma sapendo bene che non si può rassegnato alle mie fattezze, non me ne curavo più che tanto. Berto, al contrario, bello in volto e di corpo, almeno paragonato con me, non sapeva staccarsi dallo specchio e si lisciava e si accarezzava e sprecava denari senza fine per le cravate più nuove, per i profumi più squisiti e per la biancheria e il vestiario. Per fargli dispetto un giorno io presi dal suo guardarobo una marsina nuova fiammante, un panciotto elegantissimo di velluto nero, il gibus e me ne andai a caccia così parato. Vatta malagna, intanto, se ne veniva a piangere presso mia madre le malannate che lo costringevano a contraddebiti onerosissimi per provvedere alle nostre spese eccessive e ai molti lavori di riparazione di cui avevano continuamente bisogno le campagne. Abbiamo avuto un'altra bella bussata, diceva ogni volta entrando. La nebbia aveva distrutto sul nascere le olive a due riviere, oppure la filossera, i vigneti dello sperone. Bisognava piantare vitigni americani resistenti al male e dunque altri debiti. Poi il consiglio di vendere lo sperone per liberarsi dagli strozzini che lo assediavano. E così, prima fu venduto lo sperone, poi due riviere, poi San Rocchino, restavano le case e il podere della stia col molino. Mia madre s'aspettava che egli un giorno venisse a dire che era seccata la sorgiva. Noi fumo, è vero, scioperati e spendevamo senza misura, ma è anche vero che un ladro più un ladro di battamalagna non nascerà mai più sulla faccia della terra. È il meno che io possa dirgli, in considerazione della parentela che fui costretto a contrarre con lui. Egli ebbe l'arte di non farci mancare mai nulla finché visse mia madre, ma quella giatezza, quella libertà fino al capriccio di cui ci lasciava godere serviva a nascondere l'abisso che poi, morta mia madre, ingoiò me solo, giacché mio fratello ebbe l'avventura di contrarre a tempo un matrimonio vantaggioso. Il mio matrimonio, invece, mi dice, bisognerà pure che ne parli, eh, don Eligio del mio matrimonio. Arrampicato là, sulla scala da lampionaio, don Eligio Pellegrinotto mi rispose, è come no, sicuro, pulitamente. Ma che pulitamente? Voi sapete bene che don Eligio ride e tutta la chiesetta sconsacrata con lui. Poi mi consiglia, se io fossi in voi, signor Pascal, vorrei prima leggermi qualche novella del Boccaccio o del Bandello. Per il tono, per il tono. Ce l'ha col tono, don Eligio. Uffa! Io butto giù come mi viene. Coraggio, dunque, avanti.